Mio Dio, mio Dio, il pubblico mi dirà, no, se ne stanno andando in... No, che giornata terribile! Non sono fatto per queste cose! Mamma, mi ho bruciato la riba, mi ho bruciato la riba... Tu spegniti, figa, spegniti, ok. C'è voluto parecchio tempo, ma finalmente, splendori, è tornato Chef Tier. Nel corso degli ultimi anni ho giocato una moltitudine di simulatori sgrausi a tema cibo. Ho fatto Cooking Simulator, Pizzaiolo Simulator, Food Truck Simulator... L'ultimo, se vogliamo, è stato Barista Simulator, anche se col cibo non c'è zecca, in realtà moltissimo... Ma è comunque passato un anno e mezzo. Pertanto oggi torneremo dietro ai fornelli per Kebab Simulator. In realtà, più che Kebab Simulator, è Kebabbaro Simulator. Prima di cominciare, però, vi ricordo che tutti i giorni dell'unedì a venerdì mi trovate in live qui su YouTube a partire dalle ore 8. Mi raccomando, iscrivetevi al canale per non perdervi nessun contenuto live, short e video. E avviamo quindi il gioco, perché già vedo una cosa importante, la possibilità di customizzarsi il personaggio. Fra, in che senso c'è l'opzione culo? Ah, che appette. Allora, facciamo uno realistico. Panza, yes. Ma precisamente, cioè, quanto grosso posso fargli nel culo? Mamma mia, quanto spunta fuori, ma che bel cuscinetto! Capelli, c'è l'opzione no? Ok, c'è letteralmente l'opzione no. Che senso bicchieri? Ah, oh mio Dio, è stato tradotto dall'inglese. Giustamente glasses, è sia occhiali che bicchieri in inglese. Bellissimo, dammi un bicchiere in fa... Non quello. Vabbè, ma l'ho fatto quasi carino. Peccato, sono solito fare esseri strani più che esseri sensati. Oh mio Dio, alcuni vestiti sono tarati su un corpo magro. Yes! Mamma mia, guarda che bello metto che ho tirato fuori. Nice! Tutorial fuori? Sì! In che senso? Lasciamo su. Ah, yes, la chiamata di padre. Ehi ragazzo, stai ancora dormendo? Ti ho detto di venire qui domattina. Ma chi se ne frega, sei domattina perché non più il cazzo oggi fa? Ma scusa, ma si faccia gli affaracci pro... Vabbè, andiamo da papà. Madonna, che bella la tv che posso guardare soltanto rigorosamente stando in piedi. Ma mettila nella camera da letto almeno. Dove sta il kebabbaro? Perché qui abbiamo il manziere. Come si chiama? Il macellaio. Il manziere. Papà, eccoti! Scusami, ti stavo cercando. Le mie orecchie. È arrivato il momento di stare in piedi con le proprie gambe. Sono qui per guidarti verso la nostra eredità familiare con questo ristorante e fare il tuo primo passo per diventare il miglior chef della città. Ah, yes, tipo a Bologna dove per anni il ristorante meglio votato su TripAdvisor era proprio una kebaberia. Che bella barba, questa non era disponibile nella mia selezione. Ma che palle! Wow, che bella kebaberia papà. Per niente zozza. Dovevo prima pulire questo casino, voglio dire... Eh, dovresti. Sai che mi piacerebbe davvero ritarti, ma ora sono un uomo anziano. Ah, yes, io mi rivolgerò così ai miei figli quando farò 40 anni. Fino al 39, 364 giorni, tutto quanto perfetto. Scatta nei 40. Vecchio. No, però ma davvero la raccolta dello schifo a terra è così lenta. Madonna, io non ce la posso fare. Mamma mia, che bello. Quasi come su House Flipper. Bellino. Ok, ho aperto il tablet e mo' devo comprare qualcosa? Passa alla categoria superfici. Superfici, aha. Cambia gli sfondi sbrindellati. Bella parola, sbrindellato. Ma che bello. Oh mio Dio, ma è fantastica questa cosa. Oh, ma che carino così rustico. Povimenti posso scegliere, eh? Dai, dammi un colore un attimino più fico. Non voglio questo qua a base, voglio questo. Non posso far... Ah, ma è il tutorial. Vabbè, facciamo che finisco il tutorial e poi ci risentiamo. Ciao papà, mai più rivederci. Five hours later. Ok, sistemate un po' di cose, ma sbaglio o sono colori diversi? Vabbè, venderò tutto e risistemerò più avanti. Per ora non posso, sono al tutorial. Devo andare al mercato. Qui da Korkmaz Green Grocer. Non è questo il mercato? Ma che cazzo è... Eeeh... Papà? Dove cazzo sta il mercato? Forse è questo il market? Devi essere il nuovo chef del quartiere. Ma mi stai parlando? È stato verso la finestra. Ma aspetta che entri. Prendi la scatola. La scatola. Preleva la scat... No. Grazie, uomo baffuto. Arrivo, eh. Devo recuperare la ciotola. Eh, la mia scatola. Ho perso la scatola. Papà, ho perso la scatola. Papà? Ah, sì, è rimasta qua. Posso raccogliere? Grazie. Grazie, scusi ancora. Arrivederci. Che cazzo imbecille. Papà, smettere di chiudere! Porco il cane! Ok, ci siamo. Non ce l'abbiamo fatta. Un piccolo ristorante decente con cui iniziare a inseguire i tuoi sogni. Ho capito, ma ho il carbone e le ciotole. Papà, cosa servo? Il carbone? Menù del ristorante. Vediamo. Io posso per ora proporre soltanto il manzo alla griglia. Ho capito, il mio dovrebbe essere un chebabaro. Perché serve una zuppa di pomodoro in quanto è chebabaro? Non faccio domande. Vai! Per fare il manzo alla griglia di cosa ho bisogno? Ribai, sale, pepe e pomodoro. Allora, andiamo dal signor Korkmaz. Salve, buon uomo. Come stiamo? Devo prendere 5 pomodoro. Bello, pomodoro PNG. 1, 2, 3, 4, 5. Prezze... Non ho prezz... Dov'è prezzemolo? Drago bastardo affamato di fragole. A posto? Grazie mille, buon uomo! Mo, andiamo alla macelleria e prendiamo su un po' di bisteccozze. Ciao, bro! Una sola. Vabbè, minchia quanto costa. Minchia. Spero di guadagnarci almeno 600 dalla vendita di questa cosa. O, quantomeno, di poterla fare a fette e guadagnare 600 da varie cose. Mi serve il pepe, papà. Teglia, spiedo, pentola. Ma io ho bisogno del pepe. E il pepe. E il pepe! Ma ce l'avevo già, il pepe. Allora, papà, come funziona? Prendi la ciccia. Piazziamola sul tagliere e tagliamo un pezzettino. Quanto pezzettino? Ah, lo fa lui da solo. Perfetto. Ora, aggiungi 3 pizzichi di sale. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ma io l'ho aggiunto. Ah, non mi basta cliccare, devo tenere premuto un po'. Vabbè, ma che cosa stupida. Allora, verso un po' di carbone nella griglia. Carbone. Vai! Carbone strano fatto a tronchetti. Madonna, ma che sacchia è una melma. Ble! Aggiungi alcuni accendini alla griglia. In che senso accendini? Sarei tipo la diavolina. Ok, sì, la diavolina letteralmente. 3, 2, 1. Incendia! Che bello. E ora devo impiazzarci sulla costata. Ok. Tra un po' la dovrò girare, mi sa, eh. Ok, quindi mi segna la cottura globale questa barra di caricamento, va bene. Ah, no, ho fatto la cazzata in realtà. Chi se ne frega il piatto, dai, ciapa questo, per favore. No, 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 no! Togli lo spiedo! La bistecca! Ah! Spero di non aver fatto cazzate. Poi cosa devo fare? Devo grigliare un pomodoro. Fetta di pomodoro. Griglia i pomodori. Bah, vabbè. Poi devo prendere il prezzemolo. Ok, il pomodoro è cotto. Poi devo prendere il prezzemolo e metterlo sul pomodoro. Non letteralmente. Prendi il pezzo. F. Lì. Ah! Padre! Ecco alle... Cosa devo fare? Banco di servizio avviamento. Serve. Allora, è arrivato freddo, eh. Manzo eccessivamente cotto, mancavano sale e pepe. Tua ma... Ho preso quella non salata! Allora, papà, com'è? A parte che non dovrebbe scrocchiare così tanto una bistecca con dei pomodori grigliati. Naturalmente, dopo ogni cliente soddisfatto, ci sarà un piatto da pulire. Di pulire i piatti... Sì, va bene. No, 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 chi se ne frega. Tanto mica contro l'HCCP usare i piatti sporchi, no? Oh, grazie per i cento. Ho top guadagno. Come si lava? Ah! Vabbè, ma è così che si fa. Vabbè. Penso che tu abbia praticamente capito le basi. Sì, le basi sì, ma io non so se ce la faccio, fra. Papà, ma è il mio primo giorno. Ho cucinato letteralmente una cosa. Io non so se riesco. Oh no, il mio primo cliente. Salve! Buon pomeriggio! Cosa vuole lei, Kimstar? Vuole quello? Guardi, è già lì. Se lo prenda. Lei cosa vuole? Guardi, è già lì. Se lo prenda. A parte che mio papà mi ha dato 0,8 di voto. Papà, pezzo di merda. Sto a posto? Grazie mille, arrivederci. Mamma mia, sta piacendo, sta piacendo. Vuole il conto, signorina. Ecco a lei. Grazie, alla prossima. Lei ha finito? No, lei sta mangiando. Guardi che lei può mangiare... È finito? L'ho finito! Porco cazzo! Vai, vai, vai. Caccia sul fuoco, caccia sul fuoco. Scusi, eh. Scriviamo anche il pomodoro. Arrivederci. Riesco a lavare? Riesco a lavare? Riesco a lavare? Come siamo messi? Gira la fetta. No, come siamo qua? Ok, pomodori, fatti. Tu, fatta. Bon, prezzemolo. Caccia qui. Carica e servi. Bop, bop. Ok, pessima cottura, ottimo calore. Scusate, scusate se mi ha fatto aspettare, signori. Bastardi, chi è che ha sporcato? Pezzi di merda! Signorina, però, se lei mi fa questi suoni, io, cioè... Madonna, ma è ipercaotico. Io come faccio? Toh, metti via. Metti via. Metti via. Perfetto. Finito? Grazie, arrivederci. Grazie, arrivederci. Ha finito anche lei, va bene. Grazie, arrivederci. Mamma mia, quanti soldi ho fatto? In realtà ho fatto tipo sei clienti, ho fatto 600. Oh, letteralmente ho diventato 600 spendendo 200. Vabbè, finiamo la serata facendo un po' di pulizie. Manca un piatto. Qualcuno si è ciulato un piatto. Scusate! Ah, no, uno è qui. Pensavo se lo fossero ciulato. Effettivamente manca quello in esposizione. Ok, tutto a posto in vista di domani. Questo è il frigo. Fatemi mettere via i pomidoro. E già che ci sono anche il prezzemolo. Va in frigo il prezzemolo? Non credo si rovini. Ma sti cazzo... Sti cazzi. Bene. Tutto pulito? Mi pare di sì. Non vedo grande zozzeria in giro. Io direi giornata chiusa. Perfetto. Arrivederci. Mamma mia, che bella. Posso fare una cosa? Tu mi rendo conto che non sia la miglior situazione. È sbagliato. Anzi, sai cosa? Questa TV io non la voglio neanche spostare. Io questa direttamente la vendo. Non ho tempo. Io sono qua per il grind. Devo grindare. Quando uno come me è concentrato su questo lavoro. Non ha tempo. Non ho tempo per guardare la TV. Sono concentrato sul mio lavoro. Vai, dormi. Buonanotte. Ah, yes. Buongiorno. Ho sbloccato due ricette che apparentemente mi sono sognato. Cosa ho sbloccato? Allora, vediamo. Ah, le cosce di pollo e le patate fritte. Giustamente. Ma menù del giorno direi mettiamo dentro tutto. Allora, cosa mi serve per le cosce di pollo? Cosce di pollo. Pomodoro. Basta. Facciamo che prendo su altri pomodori. Cinque, vero? Fai qualcosa in più. Ma sì, lei va bene. Noi altri tre. Ah, patate. 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 Oh, ho bisogno anche di peperoncino. Ok. Mentre per le patate fritte cosa mi serve? Ketchup, patata, olio di girasole e maionese. Patate. Non ho patate. Non ci sono patate. Fra le patate. Patate. Grazie, broschi. Grazie, Korkmaz. Furkan Korkmaz. Proprio lui. E tu chi sei, bro? Ma tu sei guepechegno. Dimmi. Master. Credo che tu capisca la natura delicata di questo settore, ragazzo. Questa è la giunga culinaria. Solo i più forti sopravvivono. Vediamo se una piccola impresa può resistere al caldo. Ok. Fermi. Sto impazzendo. Allora. Che cazzo? Tazù. Non ho capito sta cosa. Ah, mi sei chiusa la porta in faccia. Che spavento. Gourmet. Oh, Juan. Chi è Juan? Servire manzo alla griglia e servire patate fritte. Vabbè. Allora. Piano. Per friggere ho bisogno di cose. Mi sa di sì. Friggitrice. Friggitrice. Oh, comprala. Beh, porca puttata. Beh, quant'è grossa. Ah, ok. Pensavo fosse enorme. In realtà no. Ok, quindi qua c'è la friggitrice. Non so neanche se io sto facendo la cosa giusta a mettere qua tutto, ma vabbè. Anzi, non sapete cosa faccio con le patate? Mamma mia, sono un genio. Sono un genio. Fermi tutti. Con patate e pomodori io faccio un'altra cosa. Preparo già tutto prima di aprire così poi apre e vado con una scheggia, cazzo. Fai fette di fette di patate. E ok. Hai le patatine. Perfetto. Frate. Frate, no. Non funziona così la ciotola. Mamma mia, sto praticamente gestendo un servizio di catering. Incredibile. Intanto tagliamone tipo cinque. Mentre il resto delle patate lo cacciamo all'interno del frigo. Comunque io di kebab ancora, cioè, neanche l'ombra. Ora devo prendere, devo prendere le cosce di pollo, il peperoncino, ketchup e maio. Allora, spendiamo bene i nostri soldi. Quindi prendi, eh, un vassoio, un vassoio, un vassoio. No, no, vabbè. Abbiamo detto ketchup, maio. Prendile un paio di entrambi. Peperoncino. Però c'è soltanto dolce. Secondo me è lui per forza. Prendiamo quello. Ok. Ora, come detto, muoviamoci. Prendiamo delle cosciotte di pollo. Vai. Una e due, tre. E un, due, tre. Forse due, basta, no? Fai quattro e paghiamo. Mamma mia, quanti soldi? Ho speso un fottio. Però tante cose tipo le patate, tipo il peperoncino, mi rimarranno per una vita intera. L'olio di gilasole. Coglione, 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 coglione. Permesso! Vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo. Pezzo di merda, ma mettini insieme al resto, no? Cretino, arrivederci. Ok, carbone, diavolina. E soprattutto accendi. Perfetto. Quello è andato avanti tutto il giorno. Tu versa. No, non così. Ah, visto? Ok, perfetto. Apriamo? È necessario... Ah! Devo già preparare tutto. Vabbè, questo è stupido in culo, comunque. Toh, friggi e accendi. Che mi faccio a capire quando è pronto? Non lo so. Comunque, iniziamo. Non so perché non le prendesse, però va bene, ora sta cuocendo. Prendi ketchup e spruzzacelo. Prendi la mayo, spruzzacela. Qua ci siamo? Quasi. Poi mi metto a fare anche il pollo. Allora, patatine. Dai, servi le patate. Ma che bravi che siamo stati! Meravigliosi. Apri. Buono. Poi, mentre c'è la gente che scassa il cazzo... Come si apre il tablet, porca minchia. Ok, coscia di pollo. Cosa vuoi? Ovviamente tu vuoi il cazzo di manzo. Pezzo di merda. Bastardo, 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 bastardo. Vai. Prendi anche un pomodoro. Ve ne bastava uno in realtà, ma va bene anche due. Ma me li ha ciulati! No, fra c'è la fila! C'è la fila di gente che vuole quello. Oh, il pollo! Allora, prendi due cosci di pollo. Ce le ho. Condire con tre di salita e tre di peperoncino. E gira! Ho fatto la cazzata. Ho fatto la cazzata. Ho fatto la cazzata. Aspetta! Non so... Troppe cose, troppe cose. Raccogli! Prendi il pomodoro! Non me ne frega un cazzo! Non devo mescolare! Fa culo, va, fa culo! Mio Dio, mio Dio! Il pubblico mi dirà! No, se ne stanno andando incazzati! No, che giornata terribile! Non sono fatto per queste cose! Mamma mia, ho bruciato la riba. Io ho bruciato la riba. Tu spegniti, figa! Spegniti, ok! Chi sta mangiando le patatine se le sta godendo, almeno quello. Poi, pollo. Come ho detto, cuoce da ogni lato il pollo. Prendi il pollo e cuoce. Poi devo prendere un altro pomodoro e tagliarlo a fette. Crudo, però, eh? Non cotto, vero? Qua sì, qua è crudo. Ho bruciato, ho bruciato un po' tutto. Ma chi se ne frega... Eccoci! Scusatemi, signori, scusatemi! Guardi qua! Tac! Eh, vabbè, cotturo un po' esagerato, ok? Oggi, oggi è così. Ruota! 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 Il conto! Arrivederci! Grazie! Minchia, 130 per delle patatine. Porca puttana! Vai, uno e due. Servi anche il pollo. No! Servi! Pessimo impiattamento, eh? Pollo eccessivamente cotto, ingrediente mancante, peperoncino. Ma non è vero, che cazzo dici stronzo? Arrivederci, scusatemi, eh, amici? È andata male. Non ho abbastanza piatti, non ho abbastanza piatti, non ho abbastanza piatti. Dimmi, amico! Ah, tu stai apprezzando, bene. Dimmi, conto? Arrivederci! No, sono finite le patatine! Accendi qua! Pata! Tac! Buono! Arrivederci, grazie per i soldi. Mi dia il piatto. Anche lei, arrivederci. Piatto, soldi... Beh, arrivederci, boh, laviamo. Madonna, ma davvero lavorare in un ristorante, non è che babberia è così? Io non ce la farei, ma... A parte che non è una kebabberia. No, troppo stressante, non fa per me. Sto bruciando le mie patate! Cazzo! Come siamo messi? Ma in realtà, dai, tutto sommato bene. Taduno, impiatta. Splotch, splotch, e splotch due. Ce la posso fare, sono uno youtuber, io sono uno youtuber! Ah, è aprito il manzo. Oh well, questo rimane in frigo per domani. Lo scaldi in microonde. È finita la giornata, davvero? Ma c'è un coltello qua. Che serva da minaccia? Vabbè, voi direte, ma non c'è un po' di cross-contamination? Teoricamente no. C'è soltanto una cosa cotta, quindi si può fare. Per domani sono già più psicologicamente pronto. Ho cibo avariato nel mio ristorante? Oh cazzo. Vabbè, anche oggi sono andato in perdita. No, non sono andato in perdita. Com'è possibile? Vabbè, top! Big money! Che ti prego, non aggiungermi altre ricette. Io non sono psicologicamente pronto. Oh no, ho sbloccato una nuova ricetta. Che è sta roba? Che è? Che è? Che è? Petto di pollo. No, fra, non sono psicologicamente pronto. Devo prendere un petto di pollo, condire con sale, peperoncino, cuocere, poi mettere a grigliare pepe rosso, pepe verde e fare le patate fritte. Scusi, ma lei che cazzo vuole, signor ispettore, ancora? Ti avevo detto di prenderti cura del tuo ristorante e dovrò multarti per questo. Ma non è vero, ma è perfettamente in ordine. Che cazzo vuoi? Pezzo di merda, ti sparo. Ma non è vero. Cosa c'è che è andato a male? Sentiamo. Prezzemolo, perfetto. Pomodoro, perfetto. Pollo, ci siamo. Non c'è nulla che sia andato a male. No, dai, per un pezzettino di prezzemolo. Mi è caduta una foglia di prezzemolo e tu mi fai la multa. Ma per favore, dai. Vabbè, devo andare a prendere. Petto di pollo e dei pomodori. E dei peperoni. Ah, non gli ho mai chiuso la porta. Fra, ma poi c'è, vabbè. Pepe rosso, pomodoro e pepe verde. E il pepe. Pa, 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 pa. Tanto mi piace come sia tutto quanto ambientato in Turchia. Siamo probabilmente nella mitica città di Batman. E questo qua è il Bajoglu Market, il mio preferito. Cazzo. Alve, signor Bajoglu. Ehm... Olio? No, nient'altro in realtà, perché sono a posto. Grazie, eh, frate mo. Devo prendere la carne da engine. Mi fa ridere perché vuol dire sia motore, sia... Mmm, engine. Ciao, amico. Due pezzi di pollo. Arrivederci. Madò, che bello sarebbe fare la spesa così anche hier. Che entri... Due pezzi di pollo. Bip. Un sogno. Accendi. Caccia. Cos'è che ho messo nel menù? No, no, cosa ho messo nel menù? Cosa ho messo nel menù? Le patolle. Ok. Ok, devo metterne un'altra allora di patolla. Cacciala. Ok. Primo piatto del giorno. Siamo pronti a servirlo. 3, 2, 1. Vai. Ma perché gli ingredienti 93? Non ho idea di che cosa io stia sbagliandola. Poi devo mettere qua 3 di sale e 3 di peperoncino. Devo condire il pepe? No. Devo grigliarlo semplicemente. Metti 3 di pepe. 2, 3. Sulla ribai. Gira. Dove è finito il mio peperone rosso? Peperone rosso? Red pepper? Dove un red pepper in giro, ma porca troia. Fogliolina. Fogliolina. Grazie. Cottura. Vabbè, si è estremamente cotto tua mamma. Gira. Ci vediamo tra qualche ora. No, fra, stai arrivando dopo. Io non sono pronto per te. In realtà sono pronto per te, ma lo ero adesso, perché avevo già tutto fatto. Guarda qua. Precisi. Anche il petto di pollo. 3, 2, 1. Servi. È ancora caldo? Benissimo. Perché questo qua a 3,7 e questo si ferma a 3? Ah, perché forse questo può ricevere massimo 4 stelle e quello massimo 3. Avrebbe senso. Ok, adesso per un po' posso chillare. Teoricamente. Fino a quando, quantomeno, non arriverà il big boss. Bro! Oh, sarò lì tra un attimo. Spero che abbia prontato il mio tavolo. Beh, non ho propriamente un tavolo, però hai una sedia. Fico. Arrivederci, arrivederci. Signora? Sono delle normalissime patatine fritte. Sti calmi. Sì, beh, la gente che mi passa attraverso i mobili, però, cioè, mi spezza. Non so se iniziare a preparare altro. Guardate, per sicurezza. Taglia. Salve, salve. No, lei cosa vuole? No, non mi trapassi tutto, per favore. Mi dica. Hola, amico. Sono Juan. Tutti mi conoscono come Spicy Juan e il maestro di sapori piccanti. Per me il cibo piccante è uno stile di vita. Sì, stai zitto. Oggi questo posto va a gonfie vele. Da un po' che non ne vediamo uno nuovo, il maestro ha fatto un sacco di cotte. Eh? Portami un piatto di cosce di pollo piccanti con gli ingredienti più piccanti. Sapete di qual livello di piccantezza sto parlando? Piccante Juan hot. Devo farglielo apposta. No, fra davvero. Vabbè. Arrivo, eh, Juan. Intanto fai uno e due. E caccia le pommes frites a frittare. Vi preparo un piatto. E ora sale. Uno, due, tre. Peperoncino. Uno, due, tre. Tranquillo, Juan. Non ti faccio mancare niente. No, qua non ti serve il ketchup. Patate. Fatte. Gira. Ciapa. Ciapa. Un po' bruciacchiati ma va bene. Raccogli. Raccogli. Metti via. Così posso entrare altri clienti se vogliono. Raccogli. Buono. Juan. Ecco a te. In che senso? In che senso? Ma scusami, ti ho servito esattamente quello che volevi. Ti metterò di nuovo la pronta? Ma sei stronzo in culo. Vabbè. Abbiamo finito i clienti. Ehi. Ciao, Juan. In che senso ho fatto l'achievement sconfiggere Juan Picano. Ma non è vero. Sono stato sconfitto io da lui. Vabbè. Dimmi che riusciamo a fare il sogno perfetto. Fammi sognare il kebab. Ne ho bisogno. Ho bisogno di sognare il kebab. Non ce la faccio più. Ma è una kebaberia il giorno 5. Ancora non ce la... Banca. Devo pagare una multa. Ok. Fatto. Personale. Posso assumere il personale? Non posso assumere il personale. Come non detto? No, dai. Il kebab semplice. Ci manca poco. Il kebab semplice. Dove raggiungere il livello 4 di maestria. Solo il livello 3. Sto arrivando, kebab. Sto arrivando. One day later. Alleluia. 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 Dove cazzo è? Serve ribeye. Pepe nero. Sale. Ce li ho. Grasso di coda. Non ce l'ho. Aglio. Pepe verde. Aglio. Prendine su un po'. Pepe verde. Magari serve. Grasso di coda. L'aglio non penso debba essere tenuto in frigo. Sarebbe sbagliato, tipo, no? Sai quante cose vengono fatte sbagliate da sto gioco. Vabbè. Grasso di coda. Reby. Grasso di coda. Reby. Grasso di coda. Perfetto. Ci ha venuto un paio. Reby. Ah, tu sei la Reby. Eh, va bene. Ne ho già una. Vero. Tanto dammi il grasso. Arrivederci. Nel caso torno a comprare. Ce l'ho? Ce l'ho. Quante volte la devo tagliare? Prendi una fetta di Reby. Macina la carne usando tritacarne. Celatore. Tritacarne. Oh. Attenzioni. Forse devo mettere la ciotola sotto. Ah, visto. Eh, lo sapevo. Poi devo prendere una fetta di quello che ho appena preso. Il grasso di coda. Poi aggiungili qui dentro. Tre di sale e tre di pepe. Io ho ancora un'idea di qualsiasi è il grasso di coda, ma va bene. Prendi uno spiedo, poi. Ne ho solo due. Ma, guardate, a me interessa servirne uno. Ma che brutta immagine, frate. E ora devo cuocerlo da ogni lato. Ok, si può fare. Devo pergrigliare l'aglio e il pepe verde. Vabbè, facciamo tutto. Cuoco fu. In realtà ce l'ho già un pepe grigliato. Cuocilo. Davvero merdone. E qua mettici l'aglio. Ignorante. Mettelo così. E lo spiegi, credo. Sta succedendo. E pepe cotto. Non nel maniera ideale, ma cotto. Dopodiché prendiamo l'aglio. Ok, che dovremo fare a fette. Intanto tiriamo giù la carne prima che sia troppo tardi. Arrivederci. Affettiamo l'aglio. E se è apposta. È stato bellissimo. Il miglior piatto in assoluto. Quattro su quattro. Sono un perfetto che babbaro. Ho scoperto cosa posso andare a fare quando smetterò di fare lo youtuber. È anche più semplice rispetto a tutte le altre ricette. Prendi, mescoli, schiaffi sullo spedino e cuoci. Oh no, mondizie, mondizie, mondizie. Che schifo, che schifo, che schifo. HCCP, HCCP. Prego, avanti. Oggi giornata speciale kebabs. Grazie, un giudizio buon uomo? Molto bene. Solo 168. Che poverata. Ma sta già finendo. Che culo. L'ho finito in questo preciso istante. Servi. Ok, domanda importante. Ora che hai finito, tu lo spie... Cioè, l'ho perso per sempre. O lo devo lavare? L'ho perso per sempre. Ma che cazzo vuol dire che perdo per sempre gli spiedi? Basta. Niente, ho deciso che chiudo il ristorante. È troppo spreco di spiedi, non va bene. Posso dire che per essere kebabbaro simulator ci vuole davvero troppo per fare il kebab. Ci ho messo due ore. Vabbè, comunque ho trovato il mio lavoro del futuro. Sono già pronto. Sì, sopravvivo a YouTube, perché non hai detto?